Musica Anche quest'anno a dicembre venite a trovarci in Verrua a Montevarchi, potete trovare le nostre pizze, le nostre schiacciate, schiacciate alla Nutella Le aspettiamo, siamo aperti a pranzo, la lunedì al venerdì, il sabato e la domenica è il pomeriggio e potete prenotare anche le pizze per l'asporto la sera per stare in compagnia con gli amici, grazie Musica Per questo Natale quindi scegli a tutta pizza in Via Roma a Montevarchi Musica Da riflessi d'arte in Via Trieste a Montevarchi per questo Natale tante idee regalo Portafoto, orologi, tanti piccoli oggetti idee regalo in vetro anche personalizzate Un esempio, orecchini in vetro, solo 18 euro Un altro esempio, cornice con un gufo in vetro, soli 18 euro Anche vetrate personalizzate da riflessi d'arte in Via Trieste a Montevarchi Musica La gioielleria Segoni in Via Roma a Montevarchi, tante idee per il vostro Natale Orologi Liugio, Sektor e tante idee anche per l'arredamento di casa Tutta la gioielleria Rebecca per il tuo Natale con stile e gusto Musica Musica Musica